Andrea Procopio, si nota tanta delusione nel tuo volto per quello che poteva essere e che non è stato. Purtroppo ancora una volta qualche errore di inesperienza vi costa caro. Sì, sicuramente il fatto che siamo arrivati a un soffio dalla vittoria non è stato bello per noi. Sì, arrivare ad un punto dove sai che puoi fare una vittoria, ma non una vittoria scontata, ma una vittoria con una squadra di un buon livello è sempre buono per provare la settimana dopo a allenarsi ancora più forti. Noi sicuramente non molliamo, però vogliamo anche i risultati e quindi ci alleneremo ancora più forti per raggiungere ciò. Cosa vi è mancato? Sicuramente anche l'assenza di Devil, perché in alcuni minuti importanti dare la palla là sotto, come ha fatto bene Andrea Locci, era importante. Devil non c'è, quindi ci dobbiamo rimboccare le maniche e provare a fare di più. Un'ottima prestazione la tua questa sera, forse la migliore da quando giochi in Serie B, vista anche l'importanza del match. Stai crescendo così come tutti i tuoi compagni. Sì, sì, sicuramente a livello realizzativo è stata una delle mie migliori prestazioni, però non mi accontento perché avrei preferito sicuramente una vittoria e magari una partita più, diciamo, meno evidente. Va bene, grazie. Grazie.